Noi siamo pronti ad andare dal dottore per vedere un po' la ferita del piedino, a che punto sta. Adesso mettiamo un bel cerottino, il calzino a metà, certo, vi facciamo vedere un po' la nostra giornata mentre andiamo dal dottore. Oltretutto dobbiamo ancora vedere se è stato promosso o meno, dobbiamo ancora vedere sul registro elettronico se abbiamo ricevuto la pagella. Questo qui è il taglio che abbiamo, che ha veramente, quindi adesso sistemiamo al meglio e andiamo dal dottore. Se togli i punti sentirai un piccolo fastidio, nient'altro, dolore non sentirai. L'unica cosa è vedere se poi possiamo rimettere la scarpa per andare a fare tutto quello che dobbiamo. Noi siamo quasi pronti, Alfonso dovrebbe mettere le scarpe, cioè una scarpa, e poi andiamo. Nel frattempo qui di Lugia. Noi stiamo andando e quindi non ci resta che aspettare il medico cosa ci dice. Facciamo vedere come va. No. E tu? Cosa? E tu? Cosa ne pensi? Penso che il dolore. Speriamo. Dai, perché penso che sei quasi guarito. Abbiamo tolto i punti. Eh? Sì. Quindi? Ho sentito un poco di dolore. E quindi cosa ci ha detto il dottore? Che per ora posso mettere solo la ciabatta e non la scarpa. E non dobbiamo sforzare il punto dove c'è stato questo taglio. Bene, quindi per il momento facciamo ancora un po' di riposo. Attenzione. Attenzione soprattutto. Va bene, nel frattempo se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale. Lasciate un like, attivate la campanellina e ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.